Riparte dall'1 a 1 la serie scudetto della Samsung Galaxy Volley Cup. Mercoledì pomeriggio, con inizio alle ore 17, Igor Gorgonzola Novara e i Moco Volley Conegliano si affrontano in gara 3 di finale. Un match che potrebbe rivelarsi decisivo nell'economia del duello tricolore e che certamente porterà una delle due formazioni ad avere l'opportunità di conquistare il titolo nella gara 4 in programma domenica 29 aprile. Finora ha prevalso il fattore campo. Le azzure di Massimo Barbolini si sono imposte 3 a 0 al Palaigor in gara 1, mentre le Panterre di Daniele Santarelli hanno pareggiato i conti con il 3 a 2 del Palaverde. Si torna in Piemonte e dopo il successo di pubblico riscosso nella prima sfida, il Palaigor è annunciato sold out per uno spettacolo che promette forti emozioni in campo e sugli spalti. Sul 2 a 0 per noi sembrava quasi questa partita affice 3 a 0, il terzo set stavamo dominando e nulla per scontato. Ogni gara va affrontata in maniera diversa, con la giusta attenzione e aggressività, con la voglia di portare a casa questo scudetto, questa finale. Non è facile perché loro sono una grande squadra, dopo il secondo set qualsiasi squadra avrebbe mollato, invece loro sono sempre state lì attaccate. E quindi io spero che ci sia un'altra partita come questa per lo spettacolo anche del pubblico.